C'è preoccupazione tra i 250 lavoratori della Siderpotenza in conseguenza della chiusura dell'impianto disposta dalla magistratura. A dare problemi c'era già la crisi, ci raccontano che da qualche anno ha portato orari ridotti all'utilizzo di contratti di solidarietà. Ora però la situazione diventa ancora più difficile e già nei prossimi giorni, nonostante la pausa estiva, bisognerà intervenire in fretta per ottemperare a quanto disposto dalla magistratura per evitare di mettere in pericolo il futuro occupazionale degli operai. Nelle nostre richieste abbiamo così indicato la necessità di sovraguardare anche l'aspetto occupazionale, tant'è che nel provvedimento il giudice dell'indagine preliminare dà disposizione alla società di adottare nel più breve tempo possibile, proprio in considerazione di questo obiettivo importante, importantissima come quello della salute, di adottare tutte le misure necessarie per rientrare nei limiti previsti dalla legge. Dopo la messa in libertà i lavoratori e i rappresentanti dei sindacati dei metalmeccanici hanno organizzato un presidio sotto la prefettura di Potenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Rosaria Cicala che nelle prossime ore chiederà l'intervento del Ministero del Lavoro per verificare la possibilità di far ricorso agli ammortizzatori sociali come è accaduto in altre vertenze simili. Inoltre i sindacati chiederanno un incontro all'azienda per conoscere i tempi degli interventi imposti dall'ordinanza di sequestro preventivo. Dalle prossime ore intanto un presidio permanente verrà organizzato dinanzi allo stabilimento.